Qua alle mie spalle c'è la Color Technical Store, andiamo a vedere cosa fanno perché sarà una cosa molto interessante e tanto colorata. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Io sono Sandro Malacarne, insieme a Alessandro Marzai sono uno dei titolari di Color Technical. Color Technical è un'azienda che nasce quasi 25 anni fa, nasce a Cascina, si occupa soprattutto del mondo della carrozzeria. Di fatto abbiamo clienti di carrozzeria che serviamo da Firenze, arriviamo fino a Piombino con i nostri clienti. Nel 2016 decide di aprire questa sede dove stiamo registrando, a Ponte d'Era, con il nome di Color Technical Store, dove abbiamo implementato in maniera importante quello che è il mondo dell'edilizia. Un mondo dell'edilizia che è sempre stato un nostro business e adesso in questo punto vendita potete trovare uno spazio di progettazione dedicato al privato, dedicato all'architetto, all'interior design. Potete trovare una vasta gamma di materiali, sia su edilizia tecnica che edilizia decorativa. Ovviamente non andiamo ad escludere quello che è sempre il nostro business, che è la carrozzeria, ma anche il mondo dell'industria e dell'anticorrosivo. Potete trovarci nella nostra sede storica di Cascina, il via salvo d'acquisto a Ponte d'Era, nella nuova sede e sui canali social Color Technical Store. Grazie.